Buongiorno a tutti, salve! Oggi impareremo a fare le vere pasta asciutte alla quarratina che solo noi di quarrata, che i quarratini schietti si sa fare, le vere pasta asciutte di quarrata che si provi uno della catena a venire a dire che le sa fare meglio e gli spacco la testa con un pancale che solo noi i quarratini schietti le si sanno fare già agli ormi per dire fu un esempio non le sanno fuffare, una volta ci provano ma le sciupano andiamo a vedere adesso il procedimento di queste favolose e squisite pasta asciutte alla quarratina una volta che voi avete fatto bollire le paste per quelle di 3 o 4 ore in modo che le rigonfino voi ci andate ad aggiungere i famosi pomodorini di Luciano, gialli, con le mani verce andiamo adesso ad aggiungere le famose mozzarella di Montorio vedete che spettacolarità, tonde, leno tonde, solo a Montorio le mozzarella sono tonde nel resto d'Italia le fanno quadrate poi andiamo ad aggiungere la famosa sarsina quarratina olio di Montorbano, un 1540, va bene anche per il diesel poi voi ci andate ad aggiungere molto essenziale e molto importante, mi raccomando la sarsina di soia che ora va tanto di moda acquarnata sia in giapponese che in cinese vedete? vedete che spettacolarità questa è la famosa sarsa di soia di bacarello che la fanno solo a bacarello poi andiamo ad aggiungere una bella cucchiaiata di senape questa è la senape di forrottoli solo a forrottoli sanno fare la senape così ma adesso andiamo ad aggiungere le spezie, le famose spezie quarratine vedete? ecco, ho una bella cucchiaiata d'origano il famoso origano di buriano poi ancora perché no, con le mani verce, vedete l'unghielli belli sudici il sale, il famoso sale di mare che c'è a Luciano poi perché no, andiamo ad aggiungere anche l'aglio in porvere l'aglio in porvere, tanto ce ne vuole tanto perché a noi a quarrata ci arriva tanto l'aglio infatti quando si rifiata c'è sempre quella fiatella ancora aglio, questo è il famoso aglio di Cassini solo a Cassini c'è l'aglio buono e ancora altro origano andiamo ad aggiungere dell'altro origano questo è l'origano della violina solo in violina acquarrata, c'hanno questo origano e adesso andiamo a rimestagnere con il frullino il solito frullino che ho usato io stamattina per levarmi alla piedi, vedete? andiamo a rimestagnere forte, forte, forte poi andiamo a rovesciare dentro anche la ciotola di cane dell'acqua di cane, vedete? e si va a rimestagnere ancora vedete, deve fare questo colorino, tipo acqua acqua di, diciamo, di water, capito? deve diventare tipo l'acqua di pozzo nero e andiamo a rimestagnere, a rovesciagnere dentro questa squisitezza e di quella salsina che gli da qui tocco qui ve lo tocco alla quarratina questa è la mia cucina l'ericcia vi aspetto per le prossime ricette prossimamente le famose meringhe di Casal Guidi e se qualcuno ha da di qualcosa che venghi me lo dica, gli spacco la testa con una testata buonanotte e buonasera a tutti ciao, al prossimo video